come ti chiami pietro fulvio domenico quanti anni hai undici nove e mezzo sette otto che vuoi fare da grande perché voglio costruire la casa dei miei sogni e lei è martina che ti piace di lei e ora falle una carezza falle una boccaccia e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no no ce la do no 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 e perché no perché le femmine non si picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare perché è una ragazza perché sono consiglia della violetta se anche le donne non si dovevano toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un maccio di fiori e perché sono dalle un bacino e la posso dare sulla bocca o sulla guancia?